Il robot è incontrastabile, si a voglia Bella guys voglio ricordarvi che se volete supportarmi Negozio oggetti supporta un creatore Con il codice FORTU accettate Da ora ogni acquisto che farete Mi darà un piccolo supporto, grazie a tutti Ah ragazzi Questi piccoli bambini maleducati Mannascia ma manascia Ovviamente il tizio Sopra di me piglia Un combat oro Almeno c'ho un'arma con la quale Potermi difendere 26, allora io col primo colpo Gli faccio 26, lui mi leva 88 Va bene, va bene, va bene Va bene, questo non c'è spuglio? Non me lo fa vedere Ah una caraffa Su condotti confusi più o meno Noi ricordiamocelo Come cavolo ha fatto Così tanto danno A quella distanza Porca Che rip Che rip Veramente vai Che rip E' bucchissimo messa pure a ciro Che dici Cari Cari Ovviamente lui non si fa uno di danno Io vi ho una caduta della madonna Dimmi che avevi delle bende Vabbè c'è un faloggio o qualcosina Ah ok 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 Buono 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 La struttura non è tutta mia però eh Raga mi raccomando Se dovevete ancora iscrivervi al canale Fatelo Attivate la campanellina Perché per fine live Vorrete aggiungere I 58.850 iscritti Un bel traguardo Ma so che assieme Possiamo fare qualunque cosa Guys Dimostratemi che è così Ok I robot non sono p-shit I robot non sono p-shit La cosa buona ragazzi Ho pure tutti i materiali che ti fanno fare Guardate in quanto poco tempo Cioè mi sono praticamente fullato Porto ti piace la stagione 10? Sì, non male Sono quasi full di tutto Per farvi capire Il robot è scarso Comunque mi raccomando Codice fortu nel negozio Se siete da ps4 Basta che andate sul negozio E digitate il mio nome Se invece siete da pc sapete come si fa Il codice creatore ragazzi È fortu tutto scritto piccolo Mi raccomando Se non sapete come si scrive Semplicemente sta in basso Lo vedete Codice creatore Sta scritto poi fortu Come vi ho detto Per esempio questo è interessante Aspettate Esatto 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 Abbastanza sicuro di poterti eliminare Anche senza robot Sinceramente Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ma devo usare il robot Sì sì Usare il robot Tranquillo La gente fa la toxic Con robot Perché non lo potrei fare pure io Il problema raga È che a uno È molto difficile da gestire Ma se siete in due bravi Si può fare veramente tanta roba Non è OP eh Non è OP Non è OP Non è OP Certo 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 Come dite voi Ma 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 sagrado Ha distrutto Ha distrutto il robot Ok Il robot si cura con il falò Interessante Allora Se non riesco a farlo distruggere Farsi quasi tento Vabbè Non parliamo Solo che non ho più cura Sinceramente Utilizzare la cura per robot Non so se sia il caso Ah no Aspettate Sta Sta un apprevisionamento vicino a me Che sto dicendo Andiamo Ok Ottimo Ottimo Pio questo E questo La shield potion Me la faccio subito Se mi libero dal slot Bella con il robot Eh si Beh Oh nemici 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 Posso provare a fare una cosa Di questo tipo C'è massimamente Come fate a dire Che non ne ho più Raga C'è veramente C'è C'è Ragazzi Ma con quale coraggio Con quale coraggio C'è quello l'ho shottato Questo è morto C'è raga Ma come fate a dire Che non ne ho più Quel coso Ma veramente Io ho solo mantenuto Il caricatore C'è Ho solo caricato i razzi Ha fatto tutto lui Raga ma come fate Con quale coraggio Dite che non ne ho più Mio dio Ma nerfate quei robot Nervate quei robot Nervate quei robot Raga Hashtag della vita Nerfate quei robot Ma per piacere Ma per piacere Nessuno Fucile di precisione Sentiamo Starai in safe Va bene Ma per piacere Devo aspettare che si chiude Devo aspettare la safe Che si chiude Amica ti spammo a caso Giusto per lo sfizio Di utilizzare i proiettili No È overpower robot Sì Raga ma Ma veramente Io non so come faccia Certa gente a dire Che non è overpower C'è il problema È tutto il robot C'è capito Seriamente Non si può fare Raga Non si può fare C'è questo Devo aspettare 50 secondi Che si chiude la safe E che forse Lui inizia a muoversi Per raggiungermi poi Uh colpisce signori Colpisce Attenzione Prende coraggio E ci raggiunge No eh Uh attenzione Fallò Mamma mia Voglieva pushare Vai vai Sali 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 Vai 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 Troppo forte Vai vai Troppo forte signori Troppo forte DG per lui Ok ragazzi Prima win della giornata Finalmente Ci siamo riusciti GG per noi Mi raccomando Iscrivetevi al canale Se siete già iscritti E attivate La campanellina Guys Il robot è incontrastabile Sì A volte Ciao